E' successo di tutto! Una partita nella partita, Bayern Monaco che passa a vantaggio delle redi al minuto 46, quindi appena rientrati in campo dopo la fine del primo tempo, Lewandowski che fa 41 come Herland e che attualmente se non mi sbaglio, Scarpadoro dovrebbe essere primo perché Mobile si è fermato, non ha più giocato, mi sa che stava in gol sopra i mob, sono a memoria, chi si ricorda, va bene, stesso coefficiente tra l'altro, Decolle, Bundesliga e Serie A, sempre andando a memoria, non so, due mesi che in gioco al calcio non mi ricordo più niente. E niente, quindi praticamente poi Bayern Monaco che ha stretto le chiappette ragazzi perché comunque prende due gol in tre minuti da un difensore che fa doppietta, ci hanno avuto sbandamento, se sono messi paura al pannolone secondo me lo hanno sgommato e questo ci dimostra che il calcio è anche, io lo ripeto sempre, è stato psicologico, è stato mentale, puoi avere i piedi più buoni del mondo ma se non hai la testa per tenere le partite in piedi, poi succede veramente tutto. Ci hanno avuto, tra virgolette, la fortuna perché l'Eintracht gli ha lasciato qualche prateria di riuscire a portarsi sul punteggio di 4-2 e quindi poi di andare in scioltezza di Interregger, dice vabbè io ci ho approvato ma sai che c'è a sto punto, aiuto da parte loro e finisce la tua. Insomma, ecco, martedì, martedì c'è il big match, se non mi ricordo male, martedì contro il Borussia Dortmund, io vi vado ad aggiornare la situazione di classifica perché inizia a farsi particolarmente interessante. Bayern di Monaco che risponde quindi alla vittoria di oggi del Borussia e si porta a 61 punti ma il Borussia sta a 57. Eventualmente in uno scontro diretto una vittoria del Borussia potrebbe definitivamente riaprire i conti, no? Perché si riporterebbe a meno uno. Ma eventualmente una vittoria del Bayern potrebbe farli allungare e potrebbe indirizzarli verso la vittoria stavate dalla Premier League della Bundesliga. Voi che cosa ne pensate? Il Borussia Dortmund ha le carte in tavola per battere il Bayern di Monaco oppure vedete un Bayern Monaco superiore rispetto al Borussia e alla fine secondo voi se la porterà a casa? Se avete stocchiate praticamente ti fa un pronostico anticipato tra virgolette perché giocano tra due giorni, oggi è sabato quindi domenica tra tre giorni. Volete il gameplay con Fabio? Tanti, voglio 16.000, mi piace su questo video. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto, attivate la campanella, non perdete, continuate, continuate, e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Io, a me personalmente, c'è chi dice io aspetto solo la Serie A dell'arte e me ne frega niente, io sinceramente oggi non c'avevo niente da fare, oggi pomeriggio mi sono messo, mi sono guardato le partite del pomeriggio alla Bundesliga, ho visto un bello spettacolo e qua mi sono sicuramente divertito di più perché in una partita 5 a 2 ragazzi miei, veramente scoppiettante, la stavano arrivi e poi ci sono riusciti. Il calcio è anche questo, se ti piace il calcio guardi tutto, guardi anche il campionato thailandese, il campionato dei pisellini mosci, quello coreano per esempio, la J League, le cose così, ecco. Soccando, ciao.